Cari amici, buon pomeriggio, sempre in coordinamento con il mio caro amico Nicolino. Partiamo ovviamente dalla Serie A. Il mio caro Milan, oh, Ibrahimovic. Caro Zlatan, Ibrahimovic regala tre punti preziosi al Milan, dopo che nel primo tempo c'era stato il momentaneo a 0 di che si poi pareggia dell'Udinese di De Paul sul rigore tre minuti dopo il secondo tempo e all'ottantatresimo Zlatan appunto mette il risultato allo sigillo sul 2-1 e quindi il Milan che continua a vele spiegatissime con il sesto risultato utile di fila in campionato, 5 vittorie, un pareggio, 16 punti. Mentre per l'Udinese si tratta della quinta sconvista stagionale in 6 partite, rimane al diciottesimo posto a quota 3 punti. Prossime sfide per il Milan, domenica prossima in casa contro il Verona per l'Udinese gara il 6 novembre tra cinque giorni in casa del Sassuolo. Poi dopo il calcio passiamo alla Formula 1, ebbene sì, il Gran Premio di Imola 2020, Emilia Romagna, vede ovviamente la consueta vittoria di Lewis Hamilton, gara durata complessivamente 1 ora e 28 minuti e 32 secondi, secondo Bottas, terzo posto che in realtà doveva essere di Max, anzi, secondo posto che doveva essere di Max Verstappen, che però è stato costretto al ritiro sfortunatamente, come anche problema di incidente per Russell, qui vedi invece Verstappen pneumatico, quindi ribadiamo Hamilton primo, Bottas secondo, Ricciardo terzo, Guviat quarto, quinto Leclerc, sesto Perez, settimo Sainz, ottavo Norris, nono Reckonen, decimo Antonio Tonino Giovinazzi, undicesimo Latifi, dodicesimo Fettel, tredicesimo Stroll, quattordicesimo Grosjean, quindicesimo Albon, poi Russell, Verstappen, Magnussen, Ocon, Gasly, Ridiradi, quindi per questa, per questa, per questo video dove appunto ci siamo, io e anche a voi ci siamo informati di Udinese Milan, Formula 1, Gran Premio, Dimola e Tutto, penso che arriverà quest'oggi anche almeno un altro video, anche perché c'è la finale dell'ATP di Vienna, qui vedo Sonego Rublev 1 a 1 al momento, un set pari, quindi noi ci vediamo più tardi, e alla prossima, ciao, resta la vista, ciao, Ciao!